ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a l'aco una panoramica su di un orologio che ho conosciuto da poco nel senso che fotograficamente parlando lo conoscevo ma non avevo mai potuto mettergli le mani sopra avevo già recensito in passato dei laco ma quelli economici perché l'aco pur essendo una casa storica una di quelle pensate erano di quelle cinque case che riforniva la luftwaffe durante la seconda guerra mondiale quindi è storica importante tedesca ecco pur essendo così importante suddivide la produzione in due fasce di tipologie di orologi economici e costosi rispetto a quelli economici cioè 340 euro sono quelli entry level con il miota dentro e poi ci sono quelli con i calibri svizzeri e finiture migliori che costano intorno ai mille e anche oltre quindi quelli di fascia alta non avevo mai avuto la possibilità di prenderli di recensirli e adesso che buon giacomo è diventato concessionario del marchio che è parte un ufficiale del canale non ho messo a disposizione ho potuto prenderlo no ricordo che la gioielleria pasquale domenici via regio e parte un ufficiale del canale è quindi chiamateli vi fanno un trattamento di favore quindi ho potuto prendere questo orologio portarlo a casa e farvelo vedere finalmente un orologio anche un po diverso dei soliti flieger ora qual è il punto di questi simpatici orologi di questa simpatica l'acqua è che quando ti vai sul loro sito web per acquistare qualcosa c'è una sorta di configuratore cioè puoi scegliere una marea una marea una marea di versioni partiamo innanzitutto dal modello questo qua si chiama mojave mojave è uno dei quattro modelli della famiglia squad la chiamano squad per non chiamarli diver non li chiamano dai per squad cioè sono dedicati a quattro ambienti in malaya mojave che è un deserto atlantic che è l'oceano e in malaya quattro modelli tra i quali cambia solamente il colore ok quindi il colore differente poi per ognuno di questi modelli abbiamo tre differenti configurazioni bracciale cinturino cinturino nato e gommone bracciale cinturino in gomma o poi per ognuno di questi ancora c'è la possibilità di scegliere differenti differenti soluzioni cioè si può scegliere se avere il calibro e lavore o top grade il trattamento antiriflesso singolo o doppio e altre piccole cosine praticamente ci si ritrova con una marea di modelli a disposizione anche anche il diametro cassa 39 o 42 mi sembra di essere di fronte avete presente quando andate nel sito di una casa di automobilistica c'è il configuratore adesso in tutte c'è il configuratore dovete configurare la macchina come la volete voi io al secondo step mi sono già perso non so più cosa ho infilato dentro e cosa mi è andato fuori niente non riesco a capire cosa c'è arrivo alla fine che non so sto spendendo quei soldi lì e non so se ho comprato le cose che mi servivano veramente e ho lasciato fuori quelle che erano necessarie cioè impossibile una volta ai miei tempi quando compravi una macchina c'erano gli optional aria condizionata alza cristalli elettrici servo sterzo basta te sceglievi tra queste tre cose e ti facevi la macchina adesso c'è il configuratore e in questo caso si va un po in confusione secondo me si si crea un po di confusione a scegliere l'orologio anche per i prezzi perché poi dopo sul mercato dell'usato ti trovi lo stesso orologio magari a un prezzo e non riesce a capire se quell'orologio lì c'è dentro il calibro top grade elabore se c'è il doppio riflesso singolo riflesso insomma un po complicatino comunque ci piace così dai adesso vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpatico brightling chronomat gmt da 40 mm quadrante blu e il bracciale rouleau bracciale rouleau alla francese cioè a cartucera così tutti questi cilindretti contigui che ci fanno tanto piacere all'occhio ora possiamo girare la camera si giriamo la camera diamo un'occhiata a questo lacco mojave e poi ci troviamo qui per le considerazioni finali partiamo come di consueto con i risultati delle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 39 mm spessore 13 lag to lag 47.3 e interasse ansa da 20 mm di tutto quanto sopra occorre sottolineare che nonostante 39 mm di diametro cassa la ghiera girevole misura 40 mm risulta infatti leggermente più larga e lo si evince anche osservando come sporga leggermente dal profilo e quindi da considerarsi come un diver da 40 mm né più né meno misura che ritengo praticamente proporzionata a qualsiasi tipologia di polso e che riesce a conferirgli una certa sobrietà pur trattandosi di un orologio evidentemente sportivo lo si vede chiaramente dalla finitura generale che tende ad essere completamente opaca una finitura spazzolata non così poi evidente che è presente su tutte le superfici nessuna esclusa a volte abbiamo incontrato orologi che in un dato punto lasciavano spazio a qualche accento lucidato proprio per creare contrasto qui no tutto è opaco anche se si tratta di un opaco che non assorbe totalmente la luce e che appare quasi semi lucido chiaramente non è l'unico indizio di sportività dell'insieme vorrei infatti mettere in evidenza due dettagli che caratterizzano fortemente la testa dell'orologio intanto le spallette di protezione con quella forma semi circolare che pare voler ingurgitare la corona di carica che infatti una volta avvitata finisce a filo con l'estremità totalmente al riparo da urti mentre il secondo dettaglio è rappresentato dalla sagoma del bordo chiera un insolito e poco visto profilo a denti di ingranaggio che risulta allo stesso tempo originale e funzionale sì perché è quel dettaglio che visto dall'alto conferisce una certa personalità al segnatempo mentre quando utilizzato mette in mostra un grip alquanto elevato consentendo una rotazione rapida ed efficace rotazione che avviene sulla base di 60 scatti soluzione che mi trova sempre d'accordo uno scatto equivale ad un minuto e l'impostazione dei tempi diventa logica e senza intoppi da sottolineare poi che l'inserto ghiera in ceramica opaca antigraffio e che risulta essere alquanto sottile si vede chiaramente che contribuisce fortemente al design della ghiera stessa laddove il nero e il colore acciaio dei denti si integrano rendendola originale ma è tutto l'insieme della toada avere una certa identità propria sono tutti piccoli elementi di design che però una volta messi assieme ci restituiscono un orologio differente dal solito al colpo d'occhio abbiamo il nero il bianco e l'arancione quest'ultimo colore ci restituisce sì una certa leggerezza dal sapore estivo ma al contempo siamo abituati a considerarlo come professionale va da sé che l'effetto cromatico diventa una caratteristica importante sia ai fini della personalità che a livello funzionale va infatti ad evidenziare quegli elementi deputati al controllo dei tempi di immersione quali il doppio indice ad ore 12 a quanto originale i primi 15 minuti dei tempi sulla ghiera la sfera minuti e il lollipop su quella dei secondi il tutto su di un fondo quadrante anch'esso completamente opaco che risulta perfettamente leggibile da qualsiasi angolazione apprezzo poi particolarmente la scelta di utilizzare a modi indici quei piccoli segmenti orizzontali che vengono poi doppiati dai numeri arabi apprezzo meno invece la finestra data piazzata ad ore 3 devo dire che si è anche cercato di dargli una certa continuità stilistica rispetto al relativo indice tronco alla sua destra sfondo disco data nero e dimensioni simili ma avrei preferito vederla ad ore 6 o anche non vederla del tutto nella sua globalità è un quadrante che mette assieme il tipico concetto teutonico della funzionalità a tutti i costi con un pizzico di estrosa fantasia un tool watch affabile non ho ancora menzionato il calibro che batte all'interno si tratta del selite sv200 nella versione labore ritengo sia una scelta apprezzabile in quanto rispetto alla versione base presenta decorazioni migliori e un upgrade sia nei materiali che nelle prestazioni su ordinazione con sovrappezzo esiste anche la possibilità di incassare la versione top grade ma non so quanto ne possa valer la pena in ogni caso rimane nascosto dal fondello a vite che in questo caso è piuttosto ben decorato uno scorpione in basso rilievo che rappresenta quell'animale capace di ambientarsi in tutti e quattro gli ambienti a cui questo orologio è dedicato non rimane che parlare del bracciale che presenta un design classico che non spicca per originalità poco male a volte è meglio rimanere negli standard piuttosto che azzardare un design troppo esotico per quanto riguarda le finiture sono alquanto buone e infatti appare completamente satinato in linea con il resto dell'orologio la qualità è ottima e il dimensionamento di scatoletta e cerniera risulta essere corretto se devo invece trovare un punto debole dico che la prolunga per gli indumenti esterni appare fuori contesto rispetto al resto in acciaio sottile stampato sembra poco solida non è certo l'altezza di quanto visto precedentemente possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali laco moavi la prima volta che riesco a mettere le mani su un laco di fascia medio alta è questa qua il risultato è un orologio che secondo me vale quello che costa anzi forse costa anche poco perché se ci pensiamo un calibro elabori dentro un orologio sotto i mille euro secondo me va bene positiva come cosa gli unici punti deboli che abbiamo visto sono stati intorno alla clasp cioè la prolunga per la muta diciamo così che è abbastanza sottile quelle in lamierino che utilizza anche sei qua volte no per dirci però c'è anche un'altra cosa che volevo far notare che non so se tutti avete notato che a me non dà fastidio però io vi dico che c'è così poi potete capire se fa per voi l'orologio allora praticamente abbiamo a che fare con un quadrante una ghiera e un datario che presentano perlomeno tre differenti tipi di font cioè sulla ghiera sull'inserto ghiera c'è un tipo di font sul quadrante un altro tipo e sul sul datario ce n'è un altro tre tipi di fonti differenti se poi e non voglio stare ad aggiungere il laco che è il logo quindi lo considero come un'immagine più che una una scritta un'immagine un logo però se volendo ci sarebbe che il corsivo di laco ora tutto questo purpurri di font a prima vista non si nota e lo rende anche particolarmente vivace come quadrante però sono convinto che molti di voi o alcuni di voi non non piacerà questa cosa magari non è per tutti i fonti differenti ci sono i pignoletti che stanno lì a guardare poi per il resto a me piace molto questo orologio qua le dimensioni sono perfette per qualsiasi tipo legge di polso 300 metri mi piacciono molto la sfera minuti e la sfera ore che mi ricorda un pochino ora non vorrei fare però doxa mi ricorda un pochino o anche sin è così che li fa arancioni e bianchi così po la teutonica proprio veramente a tool watch e questo qua ci piace tanto poi per il resto io vedo tutti i lati positivi e i lati negativi ve li ho detti che non sono tanti i lati negativi e voi fatevi un'idea se questo può essere un diver che loro non chiamano diver perché c'è lo scorpione dietro squad watch sportivi se fa per voi o se non fa per voi boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video e l'orologio e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao ciao